Il progetto dell'impianto sportivo di Collebreccia Pescara approvato in giunta il 16 novembre 2023 in contrasto con le norme del piano regolatore del comune. A evidenziarlo sono i circa 300 cittadini riuniti nel comitato coordinato da Antonio Di Girolamo che nei mesi scorsi hanno presentato anche una petizione al sindaco Carlo Masci per evidenziare come la realizzazione di cinque campi di padel coperti con una struttura fissa alta 11,50 m le distanze del fabbricato con gli archi in legno e il tello di chiusura in PVC non rispettino le norme. Antonio Di Girolamo, già presidente del Consiglio Provinciale e Comunale di Pescara. Allora, volevano fare delle strutture di 11,60 m l'uno, più ristorante dentro al centro sportivo. Quando io ho fatto fare questo, perché l'ho fatto quando ero presidente io, ci teneremo per questa zona, praticamente era per il sociale il tutto. Adesso stava diventando una cosa, però oltre a questo non era in regola col piano regolatore, il piano regolatore dice tutta altra cosa. E praticamente alla fine abbiamo dovuto far capire, l'hanno capito e hanno, diciamo così, sottornato indietro. Per forza, perché non c'era legalità nel modo più assoluto. La piazza va ristrutturata perché da quando l'abbiamo ridata al comune non gli hanno fatto mai la manutenzione. Lei ha detto che appunto ci sarebbero stati dei campi di padel, i cittadini si sono lamentati. Perché i campi di padel a 5 metri dall'abitazione, che fa, giocano tutun tutun di fronte alle finestre dove dormono. Ma non scherziamo però, chi è che ha realizzato quel progetto? Io, i cittadini mi hanno chiamato, mi hanno detto, mi hanno detto, ho cacciato le carte perché questo era nato come campi a raso. Il bando l'hanno rimesso a settembre, devono fare i campi a raso. Dopo c'hanno tutta l'appoggia, la simpatia dei cittadini. Però non si può fare che al quarto piano uno si affaiccia e vede un pallone e un pezzo di gomma. Ma chi c'è? Ma scherzato.